chi torna indietro? chi torna culo indietro? l'unico? guarda tutta eh tutta non gliene frega un cazzo lui torna indietro e basta numero uno numero uno grande non ce n'è non ce n'è andres vai andres vai marco vai marco vai marco vai marco segura vai vai marco casa.. casa... casa bravo 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 guarda guarda vai Marco vai devi gasarlo, devi gritarlo